Si è purtroppo già conclusa la seconda stagione di The Mandalorian e sono oggi qui pronto a parlarvene. E andrò anche ad unboxare questo pacco abbastanza gigante che mi ha spedito Popinabox, che ovviamente contiene qualcosa a tema con il video. Ma lo facciamo tra pochissimo, prima parliamo un po' di The Mandalorian, di questa seconda stagione che si è conclusa con otto episodi. Come sempre questa non sarà una recensione, ma semplicemente una chiacchierata che ci tengo a fare con voi, quindi commentate qui sotto con ciò che vi ha lasciato questa seconda stagione. Chiaramente farò degli spoiler, quindi se ancora non l'avete vista o se ancora non avete visto l'ultimo episodio, evitate questo video, magari riprendetelo in futuro. Sono successe davvero tante cose e sinceramente ho difficoltà a scegliere da cosa partire. La prima stagione di The Mandalorian ha avuto tanto successo, soprattutto grazie a quello che tutti chiamavamo Baby Yoda. Adesso abbiamo finalmente un nome, si chiama Grogu. Questo, unito comunque ad una storia scritta bene, a effetti speciali magnifici, ha portato tanta gente ad avvicinarsi per la prima volta a Star Wars. Questi nuovi otto episodi, invece, hanno strizzato pesantemente l'occhio ai vecchi fan. E non poteva essere che altrimenti, con ciò che è stato narrato, con i personaggi che sono comparsi. Ma questo lo vediamo tra poco, concentriamoci un attimo sul protagonista, che non è Grogu, ma è The Mandalorian e il Mandaloriano Mando, Din Djarin. Per comodità lo chiamo Mando, secondo me ha avuto una bella evoluzione in questa stagione. I primi episodi, se vogliamo, hanno cementificato quello che era già un forte legame con Grogu, fino poi ad arrivare al distacco e al salvataggio che ne è conseguito. Tutto quello che è successo, però, è andato a minare profondamente quelle che erano le convinzioni, le certezze di Mando. E la necessità di riprendersi Grogu e di strapparlo dalle grinfie del Moff Gideon lo ha portato a compiere delle scelte difficili, in conflitto con tutto ciò che aveva osservato fino a quel momento. Il famoso credo mandaloriano che ha seguito per tutta la vita questa è la via. Questo percorso, o meglio, questa evoluzione comincia già nel primo capitolo della seconda stagione. Siamo su Tatooine e si trova di fronte questo sceriffo che indossa un'armatura mandaloriana, quella appartenuta a suo tempo a Boba Fett, ma mandaloriano non è. Nonostante questo, però, alla fine dell'episodio si dimostra comunque un uomo d'onore, nonostante non sia mandaloriano, nonostante rimuova il casco, cosa che dà molto fastidio a Mando, proprio per le sue convinzioni. L'episodio più importante riguardante questo argomento è sicuramente il terzo episodio, quando Mando incontra tre mandaloriani, e questa volta sono mandaloriani per davvero, ma rimuovono tutti e tre il casco. Ed è proprio qui che Mando, ma anche noi stessi spettatori, veniamo a scoprire che la via tanto citata nella prima stagione non è altro che una visione estremista e antica delle tradizioni mandaloriane. Ed infatti questi tre mandaloriani che incontriamo non hanno alcuna remora morale a togliersi il casco e mostrarsi in volto. Questo percorso di perdita delle certezze, delle sicurezze, continua anche negli altri episodi, quando la Razor Crest viene finalmente distrutta, visto che ne ha viste di cotte e di crude, oppure addirittura nel settimo episodio Mando è costretto addirittura a separarsi temporaneamente dalla sua armatura ed indossare l'armatura di un carrista imperiale. E lo vediamo lì tutto rigido, in evidente imbarazzo. Sempre in questo settimo episodio avviene una cosa molto importante. Mando mette da parte il credo, la via e tutto il resto. Deve salvare assolutamente Grogu e per farlo deve recuperare le coordinate dell'incrociatore di Moff Gideon. E per farlo deve togliere il casco e mostrare il volto. Cade l'ultima certezza. Cosa che si ripeterà nell'episodio successivo, nell'ultimo, forse il momento più toccante dell'intera stagione, forse anche della prima stagione, il saluto, l'addio, credo, momentaneo con Grogu. Finn si toglie nuovamente il casco davanti a tutti, soprattutto davanti al suo piccolo Grogu. È stata davvero una scena bella, toccante. Farei una piccola pausa e andrei con l'unboxing. Una delle domande che mi fate più spesso riguardanti Pop in a Box è in quanto tempo arrivano i pacchi. L'ordine è stato fatto il 7 dicembre ed è arrivato il 18 dicembre, quindi 11 giorni. Ci tengo a mostrarvi anche l'imballaggio. Ed eccolo qui, l'avevo appena citato, il nostro Grogu. Ovviamente qui si chiamava ancora The Child, il bambino. Ed è il Funko Pop versione 10 pollici. Gigante praticamente. Guardate la scatola quanto è grande. Chiaramente è dovuto alle orecchie. Uh, che odore di plastica. È gigante. Guardate qua quanto è grande. Però è bellissimo. Ovviamente, come tutti i Funko Pop di Star Wars, è Bubblehead. È davvero bellissimo. Grazie mille Pop in a Box. Adesso continuo il video così. Continuo il discorso, questa volta in maniera un po' più generale. Fin dalla prima stagione, The Mandalorian mi ha dato l'idea di seguire fortemente la linea tracciata dalle serie animate di Star Wars, in particolare Clone Wars e Rebels. E quindi, se fino al secondo episodio della seconda stagione The Mandalorian seguiva una linea parallela a quella delle serie animate, negli ultimi sei episodi questa linea è andata convergendo in maniera netta. Perché sono apparsi due personaggi importanti, uno più dell'altro, della serie Clone Wars. Nel terzo episodio, ve l'ho citato prima, i tre Mandaloriani, a capo di questo trio c'è Bo-Katan, questa Mandaloriana che insegue il Moff Gideon per riprendere la spada oscura. Questa leggendaria arma che dà diritto a chi la possiede di rivendicare il trono di Mandalore. Sarà la stessa Bo-Katan a rivelare la posizione del Jedi, o meglio, della Jedi a Soka Tano. Avete visto come ve l'ho detta? La Soka è uno dei miei personaggi preferiti dell'universo di Star Wars e sono stato strafelice di vederla finalmente in live action. Tutto mi potevo aspettare, ma non di vederla all'inizio del quinto episodio in maniera fighissima. Sembrava quasi, non lo so, uno spettro. Si vedeva il suo volto mentre accendeva le spade, poi scompariva nella nebbia, uccideva i nemici in maniera veloce e furtiva. È stato bellissimo. È stato fighissimo. Non solo questo, perché mi piace come è stata resa a Soka e come è stata interpretata da Rosario Dawson. Al di là di quello che può essere il design, anzi, piccola critica, io avrei allungato un tantino le corna, ma per il resto andava tutto alla grandissima. Mi è piaciuto soprattutto lo spirito di Soka, questa profonda tristezza che ha all'interno che lascia trasparire anche all'esterno. Bella, bella, bella e non vedo l'ora di vedere la serie, assolutamente. Ma The Mandalorian si collega non solo alle serie animate, ma anche ai film della saga di Star Wars, riportando alla luce, è proprio il caso di dire, un personaggio come Boba Fett. Lo credevamo tutti morto, tranne chi seguiva l'universo espanso ormai diventato Legend. Boba però è riuscito a sopravvivere al Sarlacc e, devo dirvi la verità, è stato molto figo vederlo finalmente in azione per bene. Sia lui che la sua astronave, lo Slave One. Poi cito un altro personaggio, un personaggio banale apparso nell'ultimo episodio, nell'ottavo, un certo Luke Skywalker. Ammetto di aver lanciato un urlo quando ho visto l'X-Wing. Per carità, esistono tanti altri X-Wing nella galassia, però in quel momento, che era praticamente senza scampo per i protagonisti, in più era stato preannunciato da Soka la possibile comparsa di un Jedi, X-Wing, Jedi, 2 più 2, non ci vuole molto Luke. Quindi questa cosa era abbastanza telefonata, ma è stato bellissimo vedere Luke in azione, davvero bello. Ovviamente interpretato da un attore, non ricordo il nome in questo momento, con l'ausilio poi della CGI per il volto di Mark Hamill. Mark Hamill, assoluto genio, perché subito dopo aver visto la puntata sono andato su Instagram e è apparso la foto di Mark che faceva così. È geniale quell'uomo, geniale. e ovviamente R2 con un simpatico siparietto con Grogu. Ma, e attenzione perché questa è forse la cosa più importante, The Mandalorian probabilmente nella stagione successiva o nelle stagioni successive si farà carico, si prenderà sulle spalle il peso di andare a coprire, a tappare i buchi della trilogia sequel, dell'ultima trilogia. E c'è stato già dato un accenno di questa cosa nel quarto episodio, quando si infiltrano in questa base imperiale sul Nevarro, che scoprono in realtà ospitare un laboratorio di clonazione. In una di queste vasche si vedono questi corpi deformi molto simili al leader supremo Snoke, che come abbiamo scoperto nell'ascesa di Skywalker era frutto di laboratorio, e quindi la creazione di questi corpi con la clonazione in più la ricerca del sangue del piccolo Grogu sensibile alla forza porterà probabilmente poi a risolvere l'enorme buco che c'è riguardante la clonazione dell'imperatore, forse, spero. Come avete visto questa non è una recensione, stiamo semplicemente chiacchierando, non mi piace fare le recensioni perché credo di non esserne in grado, mi piace chiacchierare in questo modo. Da amante di Star Wars sono soddisfatto, sono soddisfatto, lo ero già con la prima stagione, lo sono molto di più con questa seconda, mi sono davvero sentito a casa, mi hanno dato tutto ciò che mi ha fatto avvicinare a Star Wars quando ero piccolo, e continueranno a farlo perché sono state annunciate altre serie, vi ho già citato quella di Ahsoka, arriverà anche quella di Obi-Wan nella quale torneranno Ewan McGregor e Aydan Christensen nel ruolo di Darth Vader, aspetto queste due come fosse Natale praticamente, e sono contento, sono rimasto davvero felice, intanto la testa di Grogu continua. Dicevo, mi sono sentito davvero a casa e benvenuti nello Star Wars Universe perché una saga, una storia come quella di Star Wars merita che tutto sia al posto giusto. A proposito di posto giusto, questo adesso dove lo metto?